Le modalità del nuovo insegnamento Cerchio Firenze 77 Scuola del Cerchio Firenze 77 A cura di Wubi, Dali Avete provato a pensare a certe idee, certi concetti che noi per il passato vi abbiamo illustrati e vedere quanto essi vi siano oggi più familiari di un tempo? No? Avete notato come certe preposizioni che noi vi abbiamo fatto in un primo tempo fossero state da voi quasi rifugite e come oggi invece possiate pensare ad esse senza tanta difficoltà? Vi dicevamo ad esempio che il cosmo ha un inizio e una fine e quanto ancora valida è questa verità? Ancora una volta vogliamo sottolineare ciò Eppure in assoluto non ve né inizio né fine Allora questo a taluno di voi, se non a tutti poteva sembrare una cosa assurda, un controsenso Quando vi dicevamo che il ciclo di vita del cosmo lo osserva il primo atto, i primi fotogrammi le prime situazioni cosmiche e il riassorbimento li vive e ti si lega agli ultimi atti del cosmo ce n'è voluto del tempo prima che questo concetto acquistasse per voi una certa chiarezza Ma vi abbiamo fatto altre domande alle quali era inutile dare una risposta considerando che voi non avete compreso il senso pieno della domanda Sarebbe stato come se noi stessi ci fossimo posti un indovinello per così dire e ci fossimo risposti da noi Non si trattava qui di fare un gioco ma si trattava attraverso alla domanda di farvi intendere un concetto l'importanza di questo concetto e attraverso alla risposta data solo quando voi aveste ben compreso il problema riassunto nella domanda illustrare la realtà Continua